E' stato un trasloco soft per circa due quintali di pesci sul torrente Dogana nel comune di Montevarchi. La cattura della fauna ittica e la successiva liberazione si è resa necessaria per poter lavorare da parte del consorzio di bonifica Alto Valdarno alla rimozione dei sedimenti in alveo senza procurare danni agli animali. L'intervento dal punto di vista idraulico è estremamente importante perché dobbiamo togliere circa un metro di sedimenti che si sono accumulati nell'alveo del fiume per riportare la giusta sezione idraulica dell'alveo e quindi per permettere il giusto scorrimento delle acque. Questo per mettere in sicurezza le case che sono intorno all'alveo del fiume. Su un piccolo tratto dobbiamo risistemare una difesa spondale, anche questo è un intervento importante proprio per mettere in sicurezza le urbanizzazioni che ci sono intorno. Però per fare questo abbiamo visto che nel letto del fiume c'erano diversi pesci. Il pesce presente quindi rischiava di avere dei danni importanti, soprattutto quando entriamo in alveo con gli scavatori. Quindi abbiamo pensato, appoggiandosi a dei pescatori locali, di prelevare il pesce presente e di rilasciarlo più a valle di modo che non arrecare assolutamente nessun danno alla fauna ittica presente in questo fiume. Abbiamo trovato il cavetano etrusco che è una specie autoctona dei nostri torrenti, una specie molto pregiata. Abbiamo trovato barbi, abbiamo trovato ghiozzi, abbiamo trovato rovelle. Queste sono le specie preminenti in questo torrente. Quanto è importante conservare queste specie? È molto importante, molto importante perché i grandi fiumi, tipo l'Arno, tipo altri fiumi, sono invasi da pesci all'Octoni che predano i nostri pesci pregiati. E quindi è importante mantenere queste specie ittiche nei piccoli torrenti.